E' un progetto che riguarda la presa in carico di famiglie al cui interno ci sia presente, oltre che a un ammalato affetto da un tumore, un'altra fragilità. Quest'altra fragilità può in alcuni casi essere per esempio un bambino piccolo di cui si ammala la madre. Il progetto prevede per esempio delle cose anche a volte molto semplici, come un volontario o un educatore messo a disposizione dal progetto che va a prendere il bambino a scuola, gli fa fare i compiti a casa fin quando non arriva la madre che magari è stata al day hospital a fare la chemioterapia. Qualche volta la presa in carico si fa più complessa attraverso per esempio i servizi di neuropsicratia infantile o di psicologi dell'età evolutiva perché bambini emotivamente fragili, vedendo la madre soffrire, perdere i capelli, vomitare, diminuire di peso, spesso somatizzano gli stessi sintomi. Abbiamo avuto bambini che perdevano capelli o che pure non si alimentavano più, avevano nausea e vomito proprio perché si immedesimavano nella malattia materna. Abbiamo per esempio dei casi di anziani che vivono soli, senza figli, in cui la moglie era l'assistente del marito broncopneumopatico cronico-ostruttivo che era sottoposto a ossigenoterapia 24 ore su 24, che si ammala magari di un carcinoma della mammella e all'improvviso se non interveniamo con questo progetto il marito non ha più l'assistenza che gli rendeva possibile il trattamento della sua broncopneumopatia. Quindi un progetto che è nato da due episodi nel corso della mia vita che mi hanno fatto presente un problema e mi hanno spinto a metterlo in piedi. Uno è un episodio drammatico avvenuto al San Giovanni Anticasede dove io lavoravo e dove dovetti assistere una ragazza di 18 anni che stava morendo perché purtroppo si era buttata dal quarto piano dell'ospedale nella tromba delle scale e si scoprì che poi si era buttata perché aveva visto uscire il padre dalla sala operatoria affetto da un carcinoma del colon di cui era stato appena operato e di cui peraltro il padre guarì e la ragazza invece morì suicida impressionata da questa immagine del padre che usciva dalla sala operatoria e scoprimmo dopo che questa ragazza era una diciottenna anoressica seguiti da servizi di psichiatria e che era stata da quel giorno lasciata sola fuori dalla sala operatoria. Questa è una dimostrazione che la malattia tumorale può a volte essere più fatale per la famiglia che non per l'affetto dalla patologia tumorale stessa. L'altro caso era una donna proprio di Alba che rinunciò a fare la radioterapia post-operatoria dopo un intervento sulla mammella perché aveva un figlio Down in casa e non voleva lasciarlo solo per le tre ore al giorno che le occorrevano per potersi recare a cuneo per fare la radioterapia.